Presa d'atto decisa, ma non ultima, difesa della sanità pubblica e per la sopravvivenza dell'ospedale Vietri. Una prima risposta in tal senso è venuta fuori dal comune di Larino, pur nell'assenza inspiegabile, delle amministrazioni del circondario Frentano. Ma occorre andare oltre a parere del movimento civico la rinascita. Gli interrogativi restano infatti sul futuro del Vietri, qualora dovesse passare il decreto Balduzzi. Una struttura che ha garantito per lunghi anni servizi di qualità, come non ricordare l'oculistica, e assistenza a tutto il bacino del cratere sismico. Ma i cittadini larinesi, partiti e sindacati devono portare la loro voce nel capoluogo di regione, attraverso manifestazioni di protesta eclatanti. Solo in tal senso, prosegue il movimento, la politica potrà riconsiderare le sorti dei presidi ospedalieri del Vietri e del Santimoteo in una vasta area che è quella del Basso Molise, un territorio dove è presente più di un terzo dell'intera popolazione della regione. Bene ha fatto allora la parlamentare del centro-sinistra, Laura Venitelli, a spingere il Ministero della Salute nella riconsiderazione dei criteri di autorizzazione e classificazione degli ospedali italiani, prevedendo deroghe specifiche per quelle realtà montane e particolarmente disagiate come il Molise che presentano una popolazione parcellizzata in gran parte anziana, disagi di ordine orografico e di viabilità interna.